E mo chi è? Ah è Destin Oh bella Ah oh zì, senti, vieni un po' a casa mia dai che fammo un video Oh Che cazzo è? Che portacci? Bella? Bella zì? Tutto bene? Tutto a posto? Dai boss, dai Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale Date ragazzi il bentornato a Destin sul canale che non lo vediamo da un bel po' In descrizione ragazzi vi lascio il link del video che abbiamo fatto ieri sul suo canale Andatelo a vedere, iscrivetevi al suo canale E... bella Oggi ragazzi faremo domande leggendo il labiale E vedremo chi riuscirà a indovinare più domande possibili E immaginati Qual è la tua marca di lecomandi preferita? Qual è la mia macchina da sport? No, preferivo Qual è la tua marca di telecomandi preferita? Qual è la tua challenge? No Ripeti Qual è la tua marca di telecomandi preferita? Allora qual è la mia marca di... E poi non ho capito più il cazzo Telecomandi preferita Telecomandi La mia marca di telecomandi Non ce l'ho la marca di telecomandi Non lo so, non ce l'ho visto niente Se Einstein ha detto Viva la figa Se mi alzo domani vado a vivere Se Einstein ha detto Viva la figa Viva la figa Se lo sdrogo fa figli Gesù chi è? Tri carote Se lo sdrogo fa figli Gesù chi è? Ah ho capito Se lo sdrogo la figa è la figa Se lo sdrogo fa figa Non ho capito il cazzo Falafel e kebab Rapa e kebab La seconda c'è stata, la prima no Raffel Fellafel Rafal Fellafel Raffael Fellafel È un regiziano che cazzo Quando vado al kebabaro Quando vado al kebabaro Ok Lui tu gli dici un kebab Lui mi dici un kebab Tu gli dici a lui un kebab Tu dici a lui un kebab Voglio un kebab Voglio un kebab Ok Lui Lui Ti dirà sempre Mangia felafel Mangia rapa Che cazzo Mentre aspetti Mentre aspetto Che il kebabaro Che il kebabaro Ti fa il kebab Si fa il kebab Il che è il kebab Lui Lui Dici a te Dici a me Vuoi tu Voglio io Un fellafel Un fellafel Dai È bello Quindi La cosa Che ti dico io a te Che ti dico La cosa Che ti dico io a te Che mi dici tu a me È Kebab e fellafel È kebab e fellafel Bravo Mamma mia Basta Guardamo ora Con uno schiocco di dita Ci invertiremo i ruoli Io adesso lo faccio così E me ne vado qua Bravo Ok Quando hanno inventato L'elettricità? Quando hanno inventato L'elettricità? Quando L'aglio? Hanno Aiuto L'impettato Quando? 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 Il C4? No Quando? Quando hanno inventato? La figa No no Quando hanno inventato? Quando vado a teatro? No Quando? Hanno inventato? Quando è finita? No Quando? Quando? Ok Anno 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 Avere Quando la capracampa? No no Quando hanno? Quanto è alto? Quando hanno? Quanto è alto? Quando hanno? Quando suoni? No Quando hanno inventato? Inventato Quando vado a teatro a vedere qualcosa? No cazzo no No La cacca di che colore è? La cacca è dura? Di che colore è? La cacca ci attacca al culo? No No Di che colore è la cacca? Ti scappa la cacca? No Di che colore? Non capisco Lo scrivi? No Di che colore è? Cioè Rosso Verde Giallo Blu La cacca? Di che colore è? Se scrivi Il tatuaggio? No Non ti si leva più? Disegnare Che ne so Così La cacca di che colore è? Non capisco un cazzo Ok Meglio la mela O un iPhone? Quanto pago un tavolo? Quando mangio una mela la metto sul tavolo? No Che telefono c'è sul tavolo? No no La mela? Quando mangio la mela? O O Un iPhone L'iPhone O un iPhone Se mi mangio la mela o l'iPhone? Beh la mela No Meglio la mela quindi Ah Sull'iPhone c'è una mela manciata No La mela La mela? È meglio dell'iPhone È meglio dell'iPhone? Sì Dunque ragazzi Scusate per la conclusione un po' brutta Ma ovviamente io sono un youtuber professionale Ho lasciato il telefono vicino al microfono Che ovviamente ha fatto interferenza Comunque il video finisce qui Lasciate un like Un commento In descrizione lascia il link del canale di Destin Passatici Iscrivetevi Bella Scusate per la mela